Buongiorno Ministro, Alberto Benazzi, Radio Dolce Vita, Ferrarasport.it Partiamo dal secondo tempo dell'ultima partita, Spal un po' in affanno, ecco avete ragionato su questo durante la settimana, cosa vi siete ripromessi per evitare insomma questi secondi tempi che sono sempre un po' difficili? Io penso che noi, io sono uno che ai ragazzi vado sempre giù pesante, l'abbiamo analizzata e studiato quello che abbiamo sbagliato e in prospettiva campo basso quattro giorni, penso di essere stato tantissimo su una partita passata e sulla partita presente, di aver cercato di sviscerare ogni singolo elemento che può essere portato a nostro favore del campo basso, spaliamo, lo sappiamo, siamo i primi noi a farci una grande autocritica, però il segnale che voglio che arrivi ogni tanto è che ok, abbiamo le nostre difficoltà, però dobbiamo venire, anche perché se ogni giorno io vado a lavorare e ogni giorno mi dicono non sei idoneo, fai sbagli questo, sbagli quell'altro, secondo me la testa poi diventa più pesante, divento negativo e l'aria inizia a diventare troppo negativa e andarne fuori è più di più, non è che non ne vai fuori, perché col lavoro ne andrai sempre fuori, ma ci metti più tempo, abbiamo fatto i primi 60 minuti con Rimini, Rimini non ha mai calciato in porta, una trasferta che a tutti mi dicevano, Rimini è difficile, tre vittorie in una settimana, per 60 minuti Rimini non ha calciato, io ho calciato una volta in porta perché Dorazzo ha sbagliato una rimessa laterale e loro sono andati a calciare in porta. Noi abbiamo analizzato il restante mezz'ora e chi voleva dare una mano alla difesa, chi voleva andare, non siamo stati organizzati, non abbiamo avuto delle belle letture e tutto quello che secondo me c'è che leggiamo quotidianamente, prendiamo troppi gol, secondo tempo siamo andati in affanno quando andiamo sopra, ci facciamo prendere dalla paura, ci stiamo costruendo la fossa da sole. Abbiamo fatto una grandissima partita per 60 minuti dove anche i primi 18 minuti in superiorità numerica e Rimini era dentro al loro tre quarti campo. Prendiamo quello, noi, ripeto, io in primis con i ragazzi, nell'autocritica ci disintegriamo, però la cosa facciamo il lavoro più bello del mondo, vogliamo dare soddisfazione, ho visto un grande impegno e ho visto delle ottime cose durante la settimana, quindi ecco magari qualche, portiamo un po' di di cielo sereno e cerchiamo di mandare via le nuvole, non che andiamo a cercare dove ci sono le nuvole. Domenica a Campobasso, quale sarà l'atteggiamento che adotterete? E poi ti chiedo anche il tuo punto di vista sui vostri avversari. Andiamo ad affrontare un mister di grandissima esperienza, super navigato nella categoria, con un gioco ben definito, la sua carriera parla per lui, una squadra che fa delle riaggressioni, forse l'arma migliore, quindi cerca di venire subito a sradicarti il pallone quando sei in fase di possesso o quando gliela riconquisti. giocano con una punta che può essere definita di struttura ma attacca anche molto bene la profondità, anche molto veloce ed è la punta che ha calciato in porta di più adatti di tutto il girone B. Dietro sono strutturati, è un allenatore che è mister Braglia che cerca sempre di mettere qualche uomo più in fase difensiva piuttosto che averne uno in più in fase offensiva, quindi mi aspetto una squadra che potrebbe lasciarci il pallino del gioco, avendo visto anche magari la trasferta di Terni fatta da loro anche se giocavano fuori casa, ma micidiali nel contropiede e nella riaggressione. Buongiorno mister Bergamini, del resto del Carlino, le ha dato un po' fastidio il fatto che comunque si sia parlato più di quella parte del secondo tempo di Spal Brutta che non dei tre punti ottenuti in trasferta e che per la prima volta la Spal non ha subito gol? No, no, non mi dà fastidio, mi fa, anzi ci permette di crescere, di venire fuori con le spalle larghe, però se continuiamo in quella direzione lì andiamo sempre a vedere i difetti, è vero non siamo in una situazione di classifica ottimale, siamo partiti in ritardo, non siamo ancora stati belli come volevamo essere, però penso che i primi e consapevoli di questa situazione siamo noi. Continuare a mettere il dito nella piaga non penso sia la cosa giusta, perché anche io tante volte gli do il bastone, ma in certi momenti devo farli respirare questi ragazzi, se no sarebbero sempre situazioni negativi, errori, mentre invece l'analisi della partita, la prima analisi della partita è stata ottimazione, bravi, giusto così, abbiamo sviluppato bene, dopo quando c'è stato il momento di andare a criticare certe situazioni, di andare a capire il perché di certe situazioni, perché un centrocampista invece di andare in avanti andava indietro liberando un centrocampista loro, lo abbiamo fatto, però ecco, non voglio che ci sia sempre della negatività intorno, perché secondo me abbiamo fatto delle grege cose, dobbiamo portare queste cose fatte per 60 minuti sui 90, però ripeto, chi vuole fare questo lavoro e non vuole essere giudicato ha sbagliato lavoro. Pensa di cambiare qualcosa in campo rispetto alla trasferta di Rimini? Sicuramente mi manca Buckel perché via con la nazionale, devo cambiare qualcosa, abbiamo provato due situazioni per come loro possono giocare quasi sempre, però anche lì hanno cambiato, si sono trovati alcune volte con la linea 3, alcune volte con la linea 4, alcune volte hanno fatto, sono finito 3-5-2 e in certe partite 3-4-2-1, quindi abbiamo dovuto di conseguenza noi muoverci su, diciamo così, due fronti. Alessio Dovati, la nuova Ferrara, buongiorno mister. Mister Braglia ha parlato poco fa manifestando tutta la sua contrarietà rispetto a una partita di calcio alle 12.30, lei cosa ne pensa? No, io sono uno che piace giocare, giocherai tutti i giorni, tre volte alla settimana, sono dalla Gasperini, dal filo Gasperini quando l'anno scorso ho detto che non è piaciuto giocare, arrivare in finale, giocare ogni tre giorni. Per me queste cose qua non condizionano, giocare alle 2.30, giocare alle 12.30, non sono due ore che fanno la differenza, quindi per me non ci sono questi problemi. Per quanto riguarda i singoli, in difesa si prefigura una sorta di ballottaggio tra Bassoli e Sottini che rientra dalla squalifica, le volevo chiedere se ha già deciso e nel caso in base a cosa arriverà o è arrivata la sua decisione. Penso di prendermi ancora la rifinitura di domani per capire, è una situazione dove sono un po' indeciso, l'esperienza di Alessandro Bassoli fa guidare un po' meglio la difesa a livello di condizione atletica, Edoardo ha qualcosa in più, forse anche dato dall'età, quindi voglio capire un po' bene in base anche alle loro due punte o tre punte che siano, quale dei due può fare la differenza, anche se ho una mezza idea, adesso ce l'ho, però voglio riprendermi ancora, ripeto, 24 ore per la rifinitura, vedere ancora come stanno, come ha recuperato, anche perché Edoardo ha avuto un risentimento che ce l'ha da un po', se lo porta dietro un po' sul tendine d'Achille, quindi c'è questa cosa in più per quanto riguarda Sottini. Buongiorno, mister, sono Alessandro Landin dello Spallino, visto che ha fatto riferimento alla cosa, le chiedo, le condizioni generali, se c'è qualcuno che dobbiamo considerare un po' acciaccato oppure se stanno tutti bene? No, a parte Omar si sono allenati tutti, Bidawi ha avuto mezza influenza, metà settimana ma completamente ristabilito e gli altri tutti abili. Quindi nel cadure se ne riparla per la prossima partita, anche per la convocazione? Per la convocazione ci sta che può essere convocato per Pescara, adesso come adesso non sarebbe pronto per Pescara, poi magari riusciamo ad accelerare i tempi in questi otto giorni che mancano alla partita. sicuramente per le tre partite in una settimana a partire da Arezzo sarà disponibile, anche perché Omar 34 anni ha delle recidive su quel flessore, quindi dobbiamo andare con cautela. Mi chiedo una cosa rispetto a ciò che hai detto prima, sono d'accordo con lei sul fatto che bisogna bilanciare i lati positivi e i negativi, quello che a me sembra è che ci sia un po' uno schema, nel senso i secondi tempi sono forse la parte più critica che si è vista di recente. immagino sia un tema complesso che chiama in causa fisico ma soprattutto testa, cioè non c'è un elemento prevalente tra i due. Sì, penso che magari per quanto riguarda Marcel sia stata una condizione ad esempio fisica che ha avuto un crollo nel 65esimo dove in un minuto con l'altro non ha più corso, quindi in quel caso lì ti parlo di una situazione fisica. Dopo, quando magari vedi che fisicamente non riesco ad andare più a portarmi più fuori dall'area, incominciano a fare due o tre traversoni pericolosi, che poi alla fine a Rimini è vero, quel gol che non era gol perché era fuori gioco, poi occasioni pericolose, due chiusure importanti di Bassoli, però parate per quanto riguarda Melgrati non ce ne sono state, però quella apprezzione di quella paura lì dopo ti parte nella testa, però se entri in campo, ancora prima di entrare in campo sei mentalmente sconfitto, sarai sconfitto, se entri in campo sapendo che sei forte lo devi dimostrare, però sicuramente ci può stare che puoi portare a caso un risultato, ma se entri in campo con l'alibi e mentalmente debole ogni libro di psicologia te lo dice che ti porti la sconfitta in casa.